In questa busta ho i quattro re, cuori, quadri, fiori e picche. Uno l'ho girato di faccia in alto rispetto agli altri ed è quello che tu adesso penserai. Pensane uno. Fatto. Dillo. Re di quadri. Il re di quadri vuoi cambiare? No. Come ti dicevo, nella busta ho messo i quattro re e il re di quadri esattamente quello girato a faccia in alto. Stunno. Ma ero talmente certo che avresti pensato il re di quadri che addirittura l'ho preso da un altro mazzetto che ha il dorso di colore rosso. Sì, no, non è possibile. Eh sì. Dai, rifatlo allora. Lo rifaccio? Sì. Mi giro un attimo e non si stessa. Allora, come prima, nella busta di quattro re e uno l'ho girato a faccia in alto. Prova tu, pensane uno. Re di cuori? Re di cuori? Vuoi cambiare? No. Guarda. Nella busta ho messo il re di cuori. Non è no! C'è in alto. E come prima l'ho preso da un mazzo. Grazie. Wow!